due amici si incontrano ed uno fa all'altro sai mi spiace ho saputo che ti sei separato da tua moglie eh si guarda oh si portava un uomo in casa ogni volta che non c'ero gli metto una mano sulla spalla gli fa beh dai ci siamo passati tutti per il tradimento no a casa da tua moglie quando tu non c'eri se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis